Se dico la lettera... il video finisce Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore forto così come lo vedete scritto a schermo Accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Non pensavo che sarei stato costretto a rifare sfide del genere in cui non dovevo dire lettere Infatti oggi non possiamo dire la lettera... E niente, io credo che perderò tipo nei primi 8 secondi Lo so molto male, ecco Stavo dicendo già il contrario di male Che è... esatto, esatto Ok, fucile a pompa, assalto Medikit Curiamoci un attimo e... Attenti Ecco, attenti tutto il tempo Ah... è ridicolo No... non so perché faccio queste cose Credo perché mi voglio un po' male Mi voglio anche un po' male E... è... sotto sotto è anche questa la verità È permesso? Se stanno tipo a massacrare Mi troverò un tizio davanti Ma... non ho capito Ma in che senso? Ok Va... 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 va la vita Va la vita Va Luigi Agency keycard Ora scendiamo ad aprire il cavo Il cavo E non l'unker Come sono simp... Oh 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 Calmo, calmo, calmo con la minigun Che questa muo' è mia Oh 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 Gente, gente, gente Tanta gente C'è gente in giro E vorrei eliminarli Prima di andare Al cavo Ok Uno Un tizio ha preso l'elicottero Speriamo se ne vada Ok È andato Torna? No Ok Sta sotto È promesso? Non ho la keycard Stupido Qua è aperto No Ogni volta che dico una P Al mio cervello È come se dicessi la lettera Avete capito, no? Quite cool, you know? La minigun la voglio prendere Però non so con cosa sostituirla Sinceramente Posso della dramma? Ma sì, dai Non fa niente La lascerò a qualcuno Che dopo verrà a eliminarci Oh Cinque kill Poche Non sono Devo dire la verità Per come ormai la gente tryarda Sono sempre decetti Ecco Tra l'altro mi è tornato un ping normale Perché prima avevo tipo Non so Ottocento Sincero Non credo comunque parlerò molto Perché più parlo E più c'è Occasione E non Pro L'ità Non so se riuscite a comprendere Comunque C'è meno occasione Che io possa Errare Nella Nella mia sfida Il linguaggio è anche più alto Più aulico Se provo ad utilizzare Se non Se non utilizzo La lettera in questione Sì ma io ora Voglio gente Voglio kill Dove siete? Uh Arriva qualcuno Arriva Arriva caro mio Vieni Te preoccupes Te preoccupes Che pensa Bavarinos Che noi Ho una jump Però Evitiamo Fa niente È andato via Gente Gente Stanno fightando Arrivo Arrivo Fermi Non fightatevi Le vostre kill mi servono Luridi Luridi esseri Dove siete? Si è travestito? Si è travestito Si è travestito Nerfate questa minigun Vi prego Ma qua Ma c'aveva il deposito Sto tipo No ho capito A parte che stavo dicendo Quanta Ro Ropa Ropa Ecco Comprendiamoci così Ropa Quanta ropa Aveva questo tipo Anche se a me serve Un fucile a pompa decente Perché io non posso andare avanti Con quello comune Cioè Capitemi La safe sta su Di agency Eh Per ora Vediamo dove si chiude Tre pozze Altra Altra Ropa Mi conviene restare qui Perché stanno un sacco di cure Cioè Vedete stanno medikit Pozze piccole Grandi Non conviene andarmene Anche se voglio fare altre kill Allora sentite Intanto io devo Un attimo fare l'upgrade Dell'arma Perché sta messa male Sta messa proprio male così Almeno me la devo fare Non comune Ok Andiamo a Selti Springs Ci facciamo un giro A Selti Springs Andiamo a Selti Springs Ci facciamo un giro A Selti Springs Con la mia minigun Qualcuno mi levasse la minigun Vi prego Sono veramente Cattivo Con la minigun Bella regà Come state Come state Tutto 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 Generale Nella vita Tutto Male Materiale Solenio me lo tengo Grazie 19 Mamma mia Proprio Gli arti corti E' andato via E' andato via Un altro lì Questo ci fa male Guardate 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 Come cado Guardate Come cado Ah come cade lui Cool Ricaricati Questa cosa finisce male Oh Lo sapevo Molto incazzato è quel tipo Fatemi alzare il volume Sei soft Fra è tutto ok Non c'è bisogno Bisogno Non c'è bisogno di fare così con me Sta arrivando un altro tipo Ti avviso da dietro Sta arrivando un altro tipo Io l'avevo avvisato Io gliel'avevo detto Questa gente Perché finisce sempre così Sempre sempre Siamo cal Goda Non ho più jump Sono un po' spaventato Ha ha Divertente Troppo Lasciatemi stare E dai E basta Non ho più